Siamo qui con il mister Alessandro Longo, allenatore della Berretti, oltre che responsabile del settore giovanile, alla vigilia della partita più importante per la Berretti stessa, la quale ha vinto quattro partite di fila e a 12 punti, punteggio pieno, insieme all'avversario di domani, che è il Torino a Torino. Sì, domani saremo impegnati in questo bellissimo match, perché il Torino è una società modello a livello di settore giovanile, potremmo ispirarci anche a loro per il nostro futuro, è una società che ha ottenuto prestigiosi risultati negli ultimi anni che ovviamente ha investito tanto, ma ha ottenuto anche tantissimo. E noi andiamo lì curiosi di conoscere le differenze fra noi e loro e cercare poi di colmarle nel più breve tempo possibile. Beh, questo naturalmente dal punto di vista dell'organizzazione, eccetera, eccetera. Al momento, quanto ha resa, siamo sullo stesso livello, anche perché più punti di 12 non se ne potevano fare. Sì, noi siamo riusciti a fare il massimo sul piano dei risultati, anche le prestazioni, devo dire, ho fatto in settimana i complimenti ai ragazzi perché hanno sempre prodotto il massimo e sono riusciti anche ad ottenere delle ottime prestazioni. E' ovvio che stiamo parlando di un confronto, quello di domani, fra due società di diverso livello. Noi, sino ad oggi, siamo riusciti a ottenere risultato, a ottenere anche delle ottime prestazioni, ripeto, perché abbiamo giocato contro delle società del nostro livello. Le squadre che abbiamo affrontato hanno sicuramente prodotto anche loro il massimo, ma noi abbiamo dato qualcosa in più. Contro il Torino proveremo a dare il massimo, ma sarà molto, ma molto più difficile in questa occasione ottenere il risultato. Però ci sarà una situazione, una condizione, lo dicevamo prima, che è diversa tra le due squadre. Il Torino ha tutto da perdere e noi niente. Dal punto di vista motivazionale e psicologico sono le partite più semplici da preparare. Anche la motivazione viene da sola, non c'è bisogno di caricare i ragazzi. Questo è fuori di dubbio, ripeto, è un confronto estremamente stimolante per noi tutti, dallo staff tecnico ai calciatori e anche per la società, per capire a che punto siamo di questo inizio di percorso che l'Arezzo settore giovanile ha iniziato ad affrontare. Sì, ma veniamo anche a un'altra cosa. Voi avrete due partite molto ravvicinate tra giovedì e sabato, perché sabato arriverà a Palazzo del Pero, che è il campo casalingo della nostra Berretti, arriverà a Lentella, che di ritorno in Serie C, ma senza essere se ne è mai andato, arriva praticamente all'esordio, se ho capito bene. Sì, stiamo parlando di un'altra realtà importantissima del calcio. Questi ultimi anni Lentella ha giocato in Serie B, che non è poco, per un paese leggero. Sì, io aggiungerei che a livello di settore giovanile loro vantano una finale addirittura di Coppa Italia, credo tre anni fa con la Roma, quindi una società che è molto avanti nel settore giovanile rispetto alla media. Rispetto alla Lega Pro stiamo parlando, sia Torino sia Lentella, di due società che sono al di sopra della media. Per cui saremo curiosi allo stesso modo, affrontare il Torino, affrontare Lentella poi sabato, saremo curiosi, ripeto, di osservare le differenze. Noi osserveremo con attenzione perché vogliamo, nel più breve tempo possibile, cercare di competere con queste realtà. Do una notizia, cioè che la partita con Lentella di sabato sarà ripresa da Teletruria, che la darà domenica pomeriggio, quindi non ve la perdete possibilmente. C'è un problema, diciamo, atletico, di condizione, giocando così in maniera così ravvicinata? Sì, indubbiamente tra il viaggio e la prestazione di domenica è chiaro che occorrerebbero almeno altre 24 ore ragazzi per recuperare completamente, però ecco appunto si tratta di ragazzi, il loro entusiasmo, la loro voglia, la loro passione colmerà questo gap. Di solito un allenatore non lo fa, ma faccia un'eccezione per noi. Ci citi qualche nome di ragazzi che stanno veramente sorprendendo, per esempio? Sì, il gruppo sta sorprendendo tutto. Credo che rispetto alle prime settimane di lavoro siano riusciti a fare un piccolo salto di qualità e questo non era sicuramente scontato. Va bene, ringraziamo per la disponibilità Alessandro Longo. Noi andiamo in pubblicità, ci vediamo subito dopo.